Sì, sono felice di ricevere questo premio, poi qui a Reggio Calabria e in questa bellissima occasione dove sono tutti questi ragazzi che iniziano a studiare, che hanno un percorso davanti da fare e proprio un messaggio che vorrei dare a questi ragazzi è proprio questo, di fare le cose con la passione, metterci la passione nelle cose che si fanno, perché solo la passione riesce a superare gli ostacoli, le difficoltà che ci sono ed arrivare agli obiettivi che ognuno chiaramente nella vita si deve prefiggere. Quello di restare nella propria terra è uno dei problemi importanti che in questo momento il sud Italia, la nostra Calabria stanno vivendo, un problema serio è quello dell'emigrazione, delle risorse umane che vanno via da questa terra e questo contribuiscono sempre di più a impoverire questa terra e noi invece abbiamo bisogno di gente che ha passione per questa terra, amore per questa terra e rimanga anche nelle difficoltà.